Penso che potevamo già, non è che chiudere, però già a primo tempo finire una partita che già poteva essere molto diversa sicuramente, però questo è che non è successo, quindi una cosa. Poi sicuramente con questo primo caldo che è uscito adesso abbiamo pagato un po' tutti sulle nostre sforze, sicuramente tensione della partita, perché comunque sia quasi come un derby, possiamo dire, e quindi si vedeva un po' di tensione, un po' i palloni semplici perse, quindi direi che su questi casi si vede che squadra comunque era in tensione, perché lo sa che responsabilità abbiamo, e quindi direi che fino alla fine ha fatto un grande lavoro, poi sicuramente alla fine siamo calati tutte e due a squadra, quindi è un po' normale questa cosa qua, però visto che comunque lottava e cercava a fare gol per vincere la partita. Ma questo assolutamente, questa squadra ha un'anima veramente forte, quindi un gruppo che lavora tutti insieme, quindi abbiamo visto oggi anche nel questo caldo fino alla fine ne ha corso, ha fatto tutto, magari quelli piccoli dettagli che poteva cambiare tutta la partita, sicuramente quanto a noi, magari anche a loro, però penso che rimasti altre otto partite e quindi questa finita, come ho detto anche ai ragazzi, finita questa e adesso dobbiamo pensare ad altre otto. Per noi ogni giocatore è molto importante, Pinton sicuramente è uno dei riferimenti molto importanti per la fase difensiva, però come abbiamo visto noi abbiamo sostituito allo stesso livello, quindi qua nel senso ogni giocatore, chi sta bene, chi ci mette il cuore in campo sta pronto e gioca. Avevamo comunque gestito bene perché comunque fino al gol era l'unico tiro, il gol è stato l'unico tiro nello specchio comunque che avevano fatto e quindi la partita comunque si è anche combattuta e equilibrata, la stavamo gestendo bene, eravamo in vantaggio e c'erano tutti i presupposti per portare a casa tre punti e hanno trovato questa ripartenza con questo gol, poi con la fine hanno vinto un rimpallo per riuscire a concludere e hanno pareggiato la partita. La partita dura 90 minuti, sì lo sappiamo, c'è chi che magari parte un po' più forte e cala un po' dopo, però nel complesso, come ho detto, fino al gol la partita era in mano nostra, viste il primo tempo potevamo anche avere più di un gol di vantaggio e sappiamo che sarebbe magari stata una partita diversa. Poi è chiaro che uno quando è in svantaggio prova a dare tutto negli ultimi 20-30 minuti e purtroppo, come ho detto, gli episodi possono girare da una parte e dall'altra, purtroppo dobbiamo essere più bravi e farle girare dalla nostra per portare a casa le vittorie che sono fondamentali in un campionato così breve. Adesso comunque non si fanno né drammi neanche voli pindalli se si vince una partita, né drammi se si pareggia una, sono passate due, mancano ancora otto, i punti sono tanti a disposizione. Noi lavoriamo, ci mettiamo già da domani a recuperare e a lavorare tutta la settimana per preparare la prossima partita per vincerla.